Johnny è un bambino a sette anni e la sua storia fa paura a raccontare Sua madre a letto sta sempre male, suo padre è un ubriacone E voi che state in poltrona o gestati in autostrada Ascoltate, ascoltate, è una storia vera Johnny quella sera come sempre a sua madre portava da mangiare Ma all'improvviso gli cade il piatto, mille pezzi proprio ai piedi di suo padre E lui è pazzo di rabbia e lo colpisce sul viso Johnny vola per terra ed è a terra un bambino Johnny non c'entra, Johnny non c'entra, Johnny non c'entra tu mai Johnny non c'entra, Johnny non c'entra ma allora perché? Questa violenza, questa violenza, questa inutile prepotenza Johnny, Johnny Johnny scappa Scappa, lui è ubriaco, vuol farti del mare, vada e tu voglia durare in strada. Johnny, 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 scappa, scherzo la porta, scappa, scappa, ma la porta è chiusa. Johnny apre l'armadio e cade tutto in un minuto, c'è il fucile di suo padre. Beh, chi le volte li hanno visto usare, come si tiene, come si deve brincare. E voi che state in poltrona, colcettati in autostana, potrete ascoltare Johnny, sparare. Johnny, non c'è, Johnny, non c'è, Johnny, non c'è, Johnny, non c'è donna. Johnny, non c'è, Johnny, non c'è, ma la violenza c'è cassata e partorirà. Non c'è, Johnny, non c'è, ma la violenza 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 c'è, Johnny, non c'è, ma Grazie per la visione! Grazie per la visione!